signore e signori benvenuti qui è mr black e vi parla e oggi sono lieto di annunciarvi la serie più esplosiva mai esistita una serie in grado di avvicinare i giocatori più forti di clash of clans con i più nabbi dei nabbi dei nabbi se no che serie del cazzo sarebbe in questo episodio come ospiti speciali kai deca federonzo vaffan color e ovviamente lui il più nabbo dei nabbi mr black detto il rambo se avete già quella faccia da ebete che già lo so sorridente significa che siete già gasati quindi pushate su quel cazzo di like che partiamo quindi vi auguro una buona visione qui mr black un bacione chicchi bestia miei tanta guagna per tutti allora tanta mania per tutti chicchi bestia siamo qua con i clasher più forti del mondo con i clasher più forti del mondo tra cui il labissimo mr black deca channel fede ciao ragazzi e vaffan colo e hai dimenticato uno scusa ma io sono gay fammi capire ferri in realtà non c'è sentite la voce soltanto dai hai dimenticato il cinese hai dimenticato ma dove c'hai? qua ci sei? sono qua non ti vedo sono sotto il tavolo eh no come sotto il tavolo mi ero nascosto ok allora io direi di partire chi ha che attaccato il primo? vaffi vaffi ma che cazzo c'è voglio da vedere vaffi è legenda vaffa dai gemma tutto devi pagare pegno per le tuffelle dell'altra voce comunque ha fellato prima vaffi eh no aveva fatto una stella non è un peggio da notare il mio primo attacco sul primo no io non gli è piaciuto ok no non è piaciuto il quinto mi sembra più logico vai vai attacca pure aspetta sto pensando lasciami un momento vai vai vaffi attacca aspetta eh dai eh vai aspettate un attimo ragazzi stai da questa parte giada chiudi quel cazzo di canzone cos'è ciccioni? aspetta vado a cucciare il mio cugino un minuto domani ci sarà sul giornale Cai famoso youtuber uccide sorella con cugino assieme no è che hanno messo la cartoncina del cazzo con copyright per sé dai raga ci sei va vai siamo tutti con te allora l'attacco di oggi l'attacco di oggi prevederà un vaffa che attaccherà solamente con uno spaccamuro e farà un 3 stelle vai va siamo tutti con te al 5 vedi a prescindere è un bastardo ok vediamo è partito l'esercito di golem i cani che cominciano a bagliare perchè avranno capito il fail di vaffa quanti golem hai tirato giù l'esercito di golem ma troppi golem dove hai i maghi per spaccare le dici ora vabbè dai buono buono sta andando bene infatti sta zitto da zitto papà guarda com'è congela guarda com'è congela comunque guarda però dai due stelle ce la fai rischia le tre stelle no non ce la fai tutti i golem sono lenti ma la pirampa due stelle buono po' mi fermi 50% 50% per vaffa si 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 grande vaffa nooo un applauso un applauso chiuso così no no la regina che sta per morire veramente dunque ma cosa ma che ti frega dai dai le gembe ma tu lascia perdere tu hai il vostro cazzi allora chi tocca ora mi astengo io mi astengo un attimo allora io preparo devo cambiare devo cambiare un attimo l'esercito ma cosa ha visto i sette golem si è detto non sono all'altezza allora io preparo devo mettere alcuni barbari prepari i goblin eeeh e cosa fai con i goblin eeeh io ho anche i spaccamuri pronto vabbè quindi chiedi pure spaccamuri black ti giuro che se tu non fai 10 cioè se non fai 3 stelle sul 10 e va ma io vado solo dei goblin non so se avete capito si ma comunque fa 3 stelle pure solo dei goblin è difficile è difficile no non è facile però diciamo che è stato più facilitato perché c'ha tutti ma non c'ha le mura ragazzi è pure il pozzo di mura quei su ma te devi di che è difficile non devi di che è facile se no non c'è il gusto capito no no ragazzi è impossibile da attaccare con i goblin i goblin le mura a che livello so no dai dai vogliamo vincere la war attacca con truppe seria ok no dai lo vengo io lo vengo io per voi prepara il pello i goblin in corso poi ragazzi un pecchino maxato io mi faccio l'otto provo vai vai chiedi chiedi pure e da mo' che ho chiesto più o mio ah più o mio scusami eh eh pecchino maxato eh non ce l'ho pecchino l'altra è con il terzo account con il terzo account c'ha 7 iphone 4 ipad 5 max solo per giocare con il terzo dei 20 account cioè con il terzo è un ordine di livello capito il costo per mantenerlo al mese sono tipo 200 mila euro si si 200 mila euro in sterline però già so perché però è così chi è pronto dai io sono pronto vai 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 al secondo vai 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 aspetta ok ragazzi ok ragazzi ok ragazzi ti ha bloccato ok ragazzi ok ragazzi ok ragazzi ok ragazzi ciao Michali ora andremo a attaccare il numero 2 con la golava spero di fargli 3 stelle allora ragazzi con questa golava con questa golava o fai 3 stelle o ne fai una senza il town hall siete pronti ragazzi mappa vai 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 ciaccalo attacco si ma non vedo guardala ok vai 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 sono pronto sono pronto vai vai oh cazzo la regina al 40 vai gasala va bene dai lui ce li ha i bassi eh si ha lasciato 3 stelle non lo so non ne sono sicuro per questo guarda dai 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 mappa che sta all'inferno multiple è quello che farà un po' di danno alla regola mette pure il maghetto maghetto tattico guarda guarda re barbara come è scavato e re barbara non prende danno vai 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 no 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 sta volendo re barbara eh si eh si e vai così attivalo attivalo è la veleno guarda vai la veleno buono buono mi stanno stupendo guarda la veleno che passa da lato guarda guarda che sfiga nein Hitler in persona ok Hitler tinese c'è un po' di scala c'è un po' di scala oh no oh no vai vai siamo in te vediamo il 0 siamo dentro di te e mentre pensavo posso farmi due minuti bello guarda che c'è c'è sto mastino un uccello gigante un uccello gigante non è la strega che può dar pastini eh no no ha le mongole ormai le mongole guardalo guardalo dai dai no 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 non ho visto vabbè andato no 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 ci sono ancora qualche mongole oh magari si cadono adesso eh no cadono giù per l'uco si cadono di torre no una stella una stella una stella benvenuto nel club l'emozione era troppo ragazzi dai Kai non fa niente ti rifarai la prossima volta il mentore di Kai è Deca l'importante è che siamo stati dentro di te questo è quello che conta vai se volete se volete attacco io adesso dentro o da dietro però vai allora mi ha consigliato Kai se sbaglio è colpa sua è sempre colpa di Kai ragazzi grazie a tutti ciao ciao ciao